Bentornati, viendanti, nello spazio FIMUTAO. Io sono Leo e oggi continuiamo a parlare di fisica elementare. Oggi, come dal titolo, misurare significa commettere errori, andremo a parlare di misura, del processo di misurazione e poi degli errori. In questa specifica lezione, che sarà quella, diciamo, introduttiva, tutto il discorso poi sulla fisica, quella sperimentale, su una fisica molto empirista, tengo molto questa lezione perché, soprattutto nell'ultimo periodo, siamo abituati a ricevere dati su dati, quindi essenzialmente delle misure, cioè qualcosa che è il frutto di un processo di misurazione, come vedremo, ma nessuno ci dice, ci parla mai di errori, cioè nessuno ci parla mai di, effettivamente, della scienza come qualcosa che non produce delle misure certe, non produce qualcosa di cristallino, qualcosa di cristallizzato, qualcosa di sempre vero. E abbiamo già detto, analizzando poi i concetti di modello, modello probabilistico e così via, abbiamo già detto che nella realtà noi andiamo, quando andiamo a parlare di fisica, quando andiamo a studiare la fisica, quando ci approcciamo alla fisica, allo studio della fisica e all'interazione tra l'uomo e la natura, essenzialmente non possiamo fare a meno che mettere a monte, che constatare, che commettiamo costantemente degli errori, cioè che abbiamo a che fare con una certa dose di incertezza nei nostri sistemi. Dunque, per iniziare quindi a parlare, diciamo, per iniziare questa nuova fase del nostro discorso, perché la fase vecchia era quella, appunto, abbiamo parlato di una fisica in termini molto matematici, molto generali, quindi dobbiamo andare a capire, dobbiamo andare a dire cosa significa misura, quindi questo è il primo concetto che vogliamo andare ad esplorare, e cosa significa misurare. Allora, ovviamente ci sembra una cosa semplice, una cosa di tutti i giorni, noi facciamo delle misure anche in maniera inconsapevole, ad esempio sappiamo in maniera inconsapevole che un oggetto è più distante da noi rispetto ad un altro oggetto, e così via. Ogni tanto ci dobbiamo ad esempio confrontare con l'utilizzo di strumenti di misura, come ad esempio le bilance, come i righelli, come il tempo, cioè come gli orologi, i cronometri e tutti questi strumenti di misura. Però noi vorremmo davvero capire che cos'è la misura, in termini fisici, quindi in termini precisi e formali, e che cosa significa misurare. Innanzitutto parliamo sempre, invece che di misurare, parliamo di processo di misurazione, o in generale di misurazione soltanto. Quindi, semplicemente, dobbiamo un po' rispolverare quello schema che ci ha accompagnato all'inizio, sia del corso di matematica elementare che del corso di fisica elementare, e dobbiamo andare a prendere essenzialmente il nostro ente nella realtà, quindi qualcosa che contiene una informazione, che può essere anche un'informazione fisica. Poi noi abbiamo il nostro modello. Perché parliamo già direttamente di modello? Abbiamo capito che il modello è qualcosa di, diciamo, esistente nella matematica, quindi nel mondo matematico, in una rappresentazione, quindi, del mondo fisico. Quindi la cosa che noi vogliamo andare a fare è quella di riuscire a trasportare le costruzioni del mondo nelle costruzioni del modello. essenzialmente vogliamo andare a vedere come agisce, come abbiamo detto prima, nelle scorse lezioni, un soggetto. Abbiamo detto appunto che un osservatore, un soggetto, cioè un modello di soggetto, era qualcosa essenzialmente costituito da un modello fisico con l'informazione di alcuni strumenti di misura. e ovviamente questo, ovviamente il prendere l'informazione dal mondo e il portarla nel modello, quindi matematizzarla essenzialmente, quindi misurarla, è essenzialmente l'azione dell'osservatore, ed è propriamente quello che noi diciamo essere il processo di misurazione. In realtà, in termini proprio tecnici, più specifici, il processo di misurazione non termina solo qui, cioè non termina semplicemente, diciamo, da una, diciamo, un'estrapolazione della informazione dal mondo e poi portata, diciamo, nel mondo dei modelli, cioè nel mondo della matematica. In realtà il processo di misurazione è il processo che, partendo dal mondo, produce la misura. Quindi può essere anche un processo che ha una buona parte ancora nella matematica, quindi è parte, diciamo, costituita da questo processo, quindi da un contatto tra il mondo e la sua rappresentazione, ma poi potrebbe avere anche una, diciamo, una ulteriore parte, costituita poi nell'analisi di quelle informazioni che noi abbiamo estrapolato dal mondo esterno. Una cosa importante da dire è che, mentre nel mondo esterno, diciamo, abbiamo tutti i problemi filosofici di cui siamo abituati, soprattutto per chi, diciamo, pratica la filosofia, quando quindi noi applichiamo il nostro processo di misurazione, otteniamo quelli che vengono chiamati dei dati. Cosa sono i dati? Sono nient'altro che una rappresentazione matematica di delle proprietà dell'ente. Qualcuno potrebbe pensare che quindi i dati siano già qualcosa, siano già la misura. In realtà non è vero, i dati non sono propriamente la misura. I dati sono una fase del processo di misurazione, perché dopo che abbiamo ottenuto i nostri dati, quindi dopo che abbiamo preso i dati, i dati vanno analizzati. Come si analizzano i dati? Si analizzano con dei processi tipicamente statistici, perché quindi qui stiamo parlando appunto di statistica, e dopo l'analisi dei dati, quindi l'analisi fa parte del processo di misurazione, noi produciamo propriamente una misura. Vorrei che sia chiara una cosa, che per ottenere davvero una misura, e questa cosa sarà più chiaro dopo il discorso che farò a breve, che quando ci viene data una misura, o quando appunto il fisico, lo scienziato, la scienziata ci dà la misura, in realtà deve fornirci assieme alla misura il processo di misurazione. Senza del processo di misurazione, quindi senza sapere come questi dati sono stati presi dal mondo, e come questi dati sono poi stati analizzati per produrre il risultato finale, è come se noi avessimo una informazione a metà. Innanzitutto, che cosa è questo oggetto qui? Abbiamo detto che appunto l'osservatore non fa nient'altro, non è nient'altro che, diciamo, un sistema fisico che è assimilabile ad uno strumento. Questa è la parola importante, un'altra parola importante, essenzialmente noi possiamo estrarre informazioni dal mondo esterno utilizzando gli strumenti. Gli strumenti sono dei sistemi fisici i quali riescono, quasi per magia, perché se andassimo, diciamo, ad analizzare tutto il problema epistemologico, quindi tutto il problema che, diciamo, è legato a come gli strumenti effettivamente producano i dati. Ecco, ci metteremo ore intere, ma comunque dobbiamo sapere che quindi il processo, la prima fase almeno, del processo di misurazione, quella quindi proprio di contatto tra il mondo fisico rappresentato dai modelli e il mondo degli enti, quindi rappresentato dalla realtà essenzialmente, avviene attraverso gli strumenti. Una, diciamo, un'assioma, un principio che noi associamo ai nostri strumenti è questo. Questa, diciamo, è il principio più importante che poi ci fa capire da dove provengono gli errori. Il principio che vi voglio dare è questo qui. Ogni strumento, quindi tutti quelli che noi possediamo, non è perfetto o, come direbbero i fisici, non è ideale. Cosa significa questa cosa qui? che ogni strumento, qualunque strumento di cui noi siamo a disposizione, non ci darà mai quello che è il valore vero del nostro dato. Cioè, gli strumenti hanno sempre dei difetti, perché gli strumenti sono robe costruite in generale dagli esseri umani e strumenti diversi, quindi, questa è anche la cosa importante, quindi questa cosa la scriviamo, quindi strumenti differenti, proprio perché tutti gli strumenti non sono perfetti, daranno dei dati differenti, quindi produrranno, si dice, dei dati differenti, misurando, scusate, non si vede, ok, misurando la stessa cosa, la stessa proprietà. Cioè, cosa significa questa frase un po' bizzarra? Che, se noi prendessimo due righelli differenti per misurare lo stesso foglio di carta, questi due righelli, proprio per il fatto di non essere perfetti e di non essere perfettamente uguali, quindi, produrranno delle, dei dati, quindi una lunghezza differente. Questa cosa qui, quindi, questa cosa qui, quindi, essenzialmente ci inizia già ad abituare al concetto di incertezza nella fisica, al concetto di errore presente nella fisica. Quindi, cambiando un po' zona della, della lavagna, stavamo dicendo che quindi tutto ciò ci abitua al, al concetto di errore nella fisica. Perché? Dobbiamo considerare due cose. La prima cosa è che quindi esistono strumenti diversi. quindi, nella prima fase, diciamo, del processo di misurazione, abbiamo strumenti diversi che ci producono dei risultati diversi, quindi dei dati diversi. La seconda cosa, e questa è quella di solito più ignorata, è che possiamo analizzare, quindi la famosa analisi dei dati possiamo analizzare i dati in maniera diversa. Qui, infatti, sta tutta quella questione, diciamo, di una sorta di oggettività e di soggettività all'interno della fisica. Qui, infatti, si dibatte proprio sul concetto di oggettività del mondo fisico e della scienza. Questo perché? Perché quando noi abbiamo dei dati che ci provengono dai nostri strumenti, quindi quando noi abbiamo la prima fase del processo di misurazione, già i dati sono qualcosa di incerto, cioè sono qualcosa di, che noi non sappiamo con certezza, perché noi non abbiamo la maniera di capire quale degli strumenti ci sta dicendo la verità, cioè quale degli strumenti ci sta dando il valore esatto della nostra misura. Dopodiché, però, quando noi ci troviamo migliaia e migliaia di dati, a seconda di quello che stiamo facendo, potremmo averne miliardi, milioni di miliardi, se siamo al CERN o stiamo facendo chissà quale esperimento, ecco, noi abbiamo, possiamo applicare degli strumenti matematici diversi, quindi noi otterremo a seconda dello strumento matematico che applichiamo, dello strumento statistico che andiamo a considerare, anche di tutte le cose che noi andiamo a mettere poi all'interno di questi strumenti statistici, quindi di tutte in maniera complessiva le nostre considerazioni sui dati, e con noi andiamo a produrre una misura diversa, quindi in generale queste due cose ci annunciano che innanzitutto tutte le misure sono associate a degli errori, perché tutti gli strumenti sono imperfetti e perché non esiste una singola maniera di analizzare i dati, quindi ogni misura, quindi misurare, significa commettere errori, significa produrre delle incertezze nei nostri dati, ogni misura, come direbbero i fisici, è affetta da errori, quindi ogni misura ha un errore, ha una incertezza, il mondo quindi diventa una, un qualcosa che noi possiamo vedere solo in termini estremamente probabilistici, quindi ad esempio le nostre analisi saranno delle analisi con la teoria della probabilità, con la teoria statistica, non saranno delle analisi matematiche pure, quindi dobbiamo anche abituarci ad analizzare il dato non in termini assoluti, ma in termini, ma nei termini appunto che al dato competono, quindi nei termini probabilistici, ovviamente dovremmo utilizzare modelli solamente probabilistici. Da questo punto di vista quindi che cos'è una misura? Quindi noi abbiamo dei dati, quindi essenzialmente qualcosa di numerico, di qua facciamo la nostra analisi e otteniamo propriamente la misura. La misura allora quindi sarà sempre e questa cosa diciamo la la vedremo diciamo nel futuro anche in maniera un po' più formale sarà sempre quindi un numero più diciamo un numero che ci indica l'incertezza cioè noi supponiamo di aver calcolato, di aver misurato e poi analizzato i dati della lunghezza di un foglio quindi noi diciamo sempre lo facciamo molto molto spesso diamo un numero secco noi diciamo che il foglio misura tot questa strada è lunga facciamo finta due chilometri in realtà la fisica vuole un'analisi vera sul mondo vuole che la misura sia magari veramente un chilometro ma poi dobbiamo dire a chi stiamo dando la misura a chi stiamo dando questo risultato finale di quanto ci siamo sbagliati in maniera probabilistica quindi ad esempio possiamo dire che ci siamo sbagliati di 0.01 chilometro quindi ci siamo sbagliati essenzialmente di 10 metri quindi quando noi abbiamo calcolato diciamo abbiamo fatto le nostre misure abbiamo sì misurato che è un chilometro ma non lo sappiamo se è proprio un chilometro preciso perché perché abbiamo questa incertezza che si manifesta con un numero e questo numero che misura la nostra incertezza lo chiamiamo errore quindi questa è diciamo queste sono le nozioni fondamentali andremo a capire quindi quali sono le fonti dell'errore quindi andremo a capire da dove gli errori provengono come poter gestire gli errori come poterli calcolare andremo a vedere anche quindi a questo punto che cosa è questo numero che è in realtà il valore più probabile più probabile che noi possiamo calcolare abbiamo già detto che quindi l'errore è la manifestazione in termini matematici quindi nei modelli della nostra incertezza se mi avete seguito fino adesso evidentemente l'errore avrà sia una fonte strumentale quindi una fonte che deriva dal fatto che i nostri strumenti non sono perfetti sia una fonte che deriva appunto da come noi abbiamo analizzato i nostri dati quindi da come noi abbiamo analizzato i nostri i nostri valori che abbiamo ottenuto dagli strumenti i dati ovviamente sono nient'altro che delle misure che noi ripetiamo cioè noi utilizziamo il termine misure diciamo in maniera anche molto vaga il dato essenzialmente quel quel numero quel quella informazione che viene estratta dallo strumento quindi io se ho il mio foglio di carta ci metto il mio righello a fianco voglio misurare voglio sapere quanto vale diciamo questa distanza qui quanto vale quindi questo questa distanza qui quindi io metto il mio righello il mio righello mi darà un numero mettiamo 10 cm se io metto un altro righello magari il numero che mi verrà sarà 10.2 cm un altro ancora mi dirà che sarà 10.1 cm tutti questi sono dei dati anche mettendo il righello lo stesso righello più volte misurando tentando di misurare lo stesso intervallo noi troveremo risultati diversi questo perché perché ci siamo noi che aggiungiamo errore al sistema perché noi abbiamo commettiamo degli errori in quanto osservatori del mondo cioè noi quando guardiamo a righello magari la nostra vista non può essere non è una vista perfetta e quindi una volta guarderemmo 10 cm una volta 10.2 un'altra 10.1 quindi tutto ciò va a confluire in questo concetto dell'errore quindi ricapitolando quando noi abbiamo questa cosa qui deve valere sempre ma non solo diciamo per gli scienziati ma anche per i giornalisti per chi fa informazione ma anche volendo per chi prende l'informazione la cosa che dobbiamo capire quando qualcuno ci dice ci dà un numero un numero che proviene da un calcolo sperimentale non ci può dare il numero in assoluto se qualcuno infatti venisse da me a dire quella strada misura un chilometro io gli chiederei sì ma con quale incertezza e non solo gli chiederei anche come hai preso quella misura lì cioè quali sono state le operazioni che hai fatto che ti hanno portato a questo risultato qui ovviamente a seconda delle differenti maniere diciamo delle differenti azioni che il nostro scienziato ha fatto per misurare la nostra strada essenzialmente noi avremmo degli errori diversi o anche proprio dei valori certi diversi quindi senza dilungarmi oltre perché ho messo davvero tanta carne al fuoco ma col tempo andremo a chiarire tutti questi concetti che vi rimanga soprattutto il concetto che la scienza non produce dei risultati assoluti ha sempre degli errori quindi anche tutti gli indici statistici gli indici sociali sono tutti legati a degli errori tutte le percentuali che ci scorrono davanti agli occhi ogni giorno in realtà sono delle informazioni a metà sono delle informazioni che non sono informazioni perché nessuno ci dice il processo di misurazione cioè come sono stati ottenuti i dati né tantomeno nessuno ci parla mai di errori quindi lasciandovi un po' magari riflettere su anche le questioni quotidiane su qualunque cosa qualunque azione noi facciamo che sia legata diciamo ad una misurazione e invitandovi a commentare a iscrivervi al canale a lasciare mi piace augurandovi sempre la rivoluzione vi saluto grazie